Ciao a tutti, sono Esther Liquori, sono CEO della società You Are My Guide. Oggi vi presento Yamgu, un'applicazione che aiuta gli utenti a viaggiare e le aziende a conoscere cosa piace ai propri clienti. Fondamentalmente facciamo analisi di dati per studio marketing, questo aiuta i viaggiatori a conoscere cosa sta succedendo in tempo reale in oltre 3200 destinazioni comprese le capitali europee e aiuta gli operatori business a conoscere cosa piace ai propri clienti mentre viaggiano nel caso di attività business correlate al turismo o in generale cosa piace ai utilizzatori di un'applicazione dedicata per il servizio B2B dell'azienda cliente. Attraverso l'analisi dei dati, aggiornata in tempo reale, l'operatore B2B è in grado di capire subito se un suo servizio o un suo prodotto ha successo o se la tipologia di comunicazione e di offerta marketing va rivista strategicamente per essere migliorata ed essere resa più interessante ai propri clienti. I viaggiatori invece sono in grado grazie alla nostra applicazione di migliorare la propria esperienza di viaggio perché hanno subito all'interno della guida informazioni aggiornate in tempo reale su tutto quello che accade intorno a loro grazie ai dati che vengono generati da altri utenti e suggeriti da altri utenti e completano la propria esperienza di viaggio grazie ai servizi che vengono proposti durante il loro soggiorno. Come abbiamo detto durante l'evento di Ebitro History ognuno di noi lascia un'impronta digitale sul territorio utilizzando tutti i dispositivi che oggi sono a disposizione di ciascuno di noi. I dati che lasciamo sono una risorsa per le aziende ma anche per i viaggiatori stessi che sono in grado di muoversi in maniera sempre più aderente alle proprie necessità e alle proprie modalità di viaggio. Quindi lasciamo un'impronta digitale che è utile per ciascuno di noi a vivere meglio il nostro quotidiano. Grazie a tutti.